Ciao ragazzi, ben ritrovati all'Inter di Football, qui a cercare di creare il calcio interstellare per voi oggi, giovedì, giorno di aggiornamento Andiamo a dare un'occhiata agli stati di forma, vedo un pericoloso Dunfres in D Turam in B invece, tutto il resto C Tranne Frattesi in D, brutta storia, Sanchez in B E non c'è male, anche Sommer in B Beh, a parte poi i big time che sono sempre in B, ma quelli lo sappiamo Si riparte ragazzi, sempre in divisione 3A E ancora più di 150 punti dalla seconda divisione Dopo essere tornati alla vittoria, un piccolo stop contro quella partita persa per 1-0 Ovviamente cerchiamo di riprenderci subito Napoli All-Star, questo è il nostro avversario di oggi, il primo posto d'aggiornamento Ok, direi, buono stato di forma in generale C'è Utero che sta benissimo, ma sta bene lì Eh, Alexis Sanchez qui, informissimo, lo andiamo a mettere Al posto del capitano Lautaro C'è anche Bucchina, non meglio di... No, c'è, Carlos Augusto o meglio di Marco? Tra l'altro a Carlos Augusto ho messo anche del muro che gli mancava Di... come abilità aggiuntiva Sono riuscito a beccarla E... no, scivolata ce l'ha, crosscalibrato ce l'ha, siamo a posto Ehm... Poi direi che... non so se giocarmi Bucchina Vediamo un attimo un altro avversario che gioca con Bappé Sterling E un 3-5-2 molto offensivo con Serginio Eh, Serginio non lo vedo da un po' Serginio di AB Penso che... e c'è Messi 106 lì, mamma mia Messi 106 è una brutta storia Andiamo a mettere le marcature non strette, quelle individuali Dunfris su... su Serginio che è a sinistra E ovviamente... Carlos Augusto sul... quello di destra che è di AB Dovremmo stare a posto Ehm... Andiamo solo a scegliere se mettere Bucchina oppure no C'ha di AB contro No ragazzi, lasciamo stare così Partiamo Bucchina è ancora troppo acerbo ragazzi Soprattutto in... per quanto riguarda le caratteristiche difensive Non è... Non è super affidabile purtroppo E il Napoli a battere il calcio d'inizio Mettro l'anticipo qui dell'Inter Bravo Morkusturam per Tunfris che guadagna il fondo Il cross al centro Sta arrivando Sanchez La palla che resta lì e si salva Khan Subito l'Inter è partita abbastanza aggressivamente Valore recupero di palla Poi Khan Al fondo Lanciare per Bappé contro Bastoni Palla sporcata ma alla fine ci arriva Messi Poi Pavara ancora bravissimo L'alza Morkusturam per Sanchez Colpo di testa che non passa Poi bellissima cosa giocata dell'Inter Con Morkusturam Che l'alza dall'altro Sanchez E qui questo cross era un po' troppo... Debole Non si poteva fare molto Mamma mia Sanchez che numero A giro Sanchez Quei l'Inter che continua a spingere Ancora Dunfris Bel recupero poi Turam Che appoggia proprio per l'olandese Che guadagna il fondo Valcust al centro rimpallato Mamma mia quei Inter di nuovo però poi Dunfris sbaglia l'appoggio Attenzione al contropiede che può partire con Serginio Ma Pavara dice no subito Poi per Miki sulla lungolinea Addirittura Latina in campo E poi Dunfris con il tacco A cercare di evitare che il Napoli riparta Non ci riesce proprio a pieno però Mamma mia regalo E qui questo passaggio di Turam è sbagliato Completamente Poi recupero di Ciala Cercare il Nigno Il numero del Nigno in aria E poi il tiro a giro E il Nigno Sanchez in mezzo a due Lì salta e fa 1-0 Grande Nigno Sanchez Che brutto orrore di Del nostro Cialanoglu Per fortuna poi si salva l'Inter Poi l'1-2 Bellissimo Turam ad allargare per Miki Tarn Che aveva trovato un bel buco ma Passaggio non preciso Poi è ennesimo anticipo di Dunfris Stai facendo una partita incredibile Ancora un po' di confusione Poi Ciala recuperare di nuovo per il Nigno Sanchez E non riesce a superare Il difensore stavolta Dopo il grande numero che aveva fatto Poi bastoni ancora con questo recupero Mbappé per un attimo Poi di nuovo Barella Palla per Miki Ancora l'1-2 Altro anticipo di Barella Poi il Morksturam Per Cialanoglu Si fa anticipare però Bravo Carlos Augusto in copertura Poi torna indietro da Sommer Di nuovo per Pavard L'Inter che prova a giocare con calma In questo caso Dunfris Mkhitaryan Quando le palla al piede Ancora buco enorme C'è Dunfris Che guadagna al fondo Il cross al centro per Sanchez Ed è Marchinho Passa a mettere in calcio d'angolo Il 26esimo Inter Che continua a spingere E si vede che c'è un po' di difficoltà Nelle ripartenze del Napoli Le marcature che stanno funzionando E come direi Con Dunfris E Carlos Augusto Però Abbiamo messo quelle individuali Dobbiamo stare attenti Perché se lui cambia qualcosa E infatti Togliamo queste marcature Allora Abbassati a centrocampisti Credo ci sarà anche un cambio A questo punto Perché Diaby Non è centrocampista Infatti Infatti c'è di Diaby Se non è entrato Van der Waart Come centrocampista centrale Giustamente Cercare sempre sul secondo palo Il nostro De Vrij De Vrij a metà al centro Pavard In una rovesciata Molto goffa Quindi non ho avuto la prontezza Ragazzi Bisognava appoggiarla di nuovo E Can dal fondo A rilanciare Per De Vrij Riesce a servire Barella in qualche modo Poi Barella Molto lento Attenzione a questa palla in avanti Poi proprio Barella Rimediare E Mkhitaryan in qualche modo Poi Turam Mkhitaryan Con il Ligno Sanchez A dialogare Ma non riescono A chiudere Questo 1-2 Poi attenzione A questo cross in avanti Altro recupero Dell'Inter Sanchez Subito per Turam Un po' frettoloso Frettolosa questa palla Altro erraccio Di nuovo l'Inter Poi Marcus Turam Con il numero Il cross al centro Per Ligno Sanchez Indietro Per Ciala Che calcia Col sinistro Quei La genialata di Sanchez E non andare in porta Ma metterla indietro Per Cialanoglu Se la La controlla E con il sinistro Dire a giro Ed è di nuovo Ancora Inter Io non so perché Mi ha tolto il cursore Non so se ci avete fatto a casa Mentre Per il semplice passaggio Bravo Devrei qui a fermare l'avversario Poi Carlos Augusto C'è Intermette Si propone Mkhitaryan Qui Turam Con un pizzico di ritardo Perché se sta palla Passava E c'è il gol Di Mbappé Non sono riuscito a fermarlo Ragazzi Qui Bastone in scivolata Ed è 2-1 Riaperta la partita Dal Napoli All Star Altro brutto stop Qui Di Mbappé Dunfres Costretto ad alzarla Per Mkhitaryan Che proprio mi ha anticipato Poi ancora Dunfres Di nuovo per Marcus Turam Centralmente C'era il nino Sanchez Che ho visto Completamente solo Ragazzi Ancora Mkhitaryan Che fa una grande copertura Di nuovo in avanti Sempre a cercare Marcus Turam Di nuovo per il nino 1-2 Che funziona Lanciato E il nino Sanchez Ma che ha preso Can Ma che cosa Ha preso Can Mamma mia ragazzi Che intervento Di Oliver Can Anche se il nino Sanchez Si è scivolato Nel momento del tiro Non è che io l'abbia ben capita Questa cosa 1-2 Che funziona con Mkhitaryan Che fa il cross C'è Marcus Turam Parata E poi E il nino No raga Ma che vuol dire No raga Che vuol dire No raga Che vuol dire Vi prego No raga Io non so Che cosa voglia dire Questa cosa Che ho visto Ancora bella Bello il controllo Di Miki A servire Dumfries Che guadagna al fondo C'è solo Sanchez Questo si può sbagliare Ragazzi Anche se Era comunque Completamente solo Ma quello di prima Ragazzi Non ha senso E 9-1 Per tiri Napoli-Inter Inter-Napoli In realtà 9-1 1-9 Napoli-Inter Un tiro-un-gollo Per il Napoli Di Mbappé Marcus Turam Forse insiste troppo Poi Dumfries Con un gran recupero Riesce a servire Marcus Turam La palla al centro A cercare Sanchez Ma Fa subito Oliver Canna A rilanciare E allora la palla Per Sterling C'è De Vre E vince questo contrasto Poi c'è la Noglu Un po' Sbagliando in questo caso Pavard Altro recupero Importantissimo Buona questa palla Di Sanchez Poi c'è la Noglu Per Carlos Acusto In avanti Per Marcus Turam Poi recupero C'è Sanchez A giro Palla che resta lì Si salva Incredibilmente Il Napoli Bravissimo C'è la recupera Questo pallone Qui fallo Su C'è la Noglu Di Rodri Spostato il pallone All'ultimo Anche se sembrava Averlo toccato Rodri Falloso Comunque L'intervento Per l'arbitro La corta Per Barella Che ha provato A sfondare Esagerato Però c'è Sterling Allora Ma Don Frisa Ferma tutto Qui Sanchez Non arriva Su questo pallone Ancora 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 un altro errore Qui peccato Poi Barella Che li recupera Allora l'Inter L'1-2 Malkus Turam Per Ciala In area Ciala La gran parata La gran parata Poi l'aroraccio E Miche che non riesce a calciare E raga questa partita Stiamo arrivando nella parte in cui sbagliamo troppo E che Per come è andato già il primo gol Qui basta un rimpallo che finisce male E qui la perdiamo E bisogna stare attenti Qui Sanchez 1-2 Con Marcos Turam Marcos Turam Non può sbagliare L'1-2 Con Alexis Sanchez A ristabilire le distanze Drio 1-Inter Che bravo Cialanoglo Cercare Sanchez Un po' esagerato Poi Per un pelo Non ci arriva il nigno Su questo anticipo Poi bravo Barella Le recupero L'1-2 Che numero di Mkhitaryan Che poi apre Benissimo Per Cialanoglo Dall'altro lato C'è solo Marcos Turam Colpisce malissimo ragazzi Male 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 C'è in avanti C'è Pavar Sovrastare l'avversario di testa Poi Sanchez Non riesce A indirizzare bene di testa Ancora Pavar Con un grande anticipo L'1-2 Perfetto di nuovo Con Marcos Turam Lanciato sempre dal nigno In aria A cercare Cialanoglo La gran chiusura di Costa Curta Poi attenzione Ancora il nigno A cercare Ciala che in posizione regolare A giro La chiude A 68esimo A Cancialanoglo Che errore in uscita Qui di Costa Curta Brutto 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 A cercare Cialanoglo 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 Bisogna Bisogna giocarsela tutta Va Bare qui Secondo l'arbitro Con un fallo Su Sterling Mamma qui Marco Stramma Per un pelo Non anticipare Poi Barela ancora Ancora L'anticipo di Rodri E qui Sanchez Ancora per un pelo Non a dar fastidio Ancora Barela Recuperare questo pallone Poi un po' lento Ma alla fine Miki Che fa da Sanchez E qui La velocità era Quella che era Purtroppo Altro recupero Miki In aria Per Sanchez Che appoggia a Turam Ma è fuori gioco 73esimo recupero Sanguinoso Di Miki Taran Che ha lanciato subito Sanchez Forse lì la scelta giusta Era invece da Turam Andare da Turam Che era in posizione irregolare Lancio lunghissimo Mamma mia Non ci arriva Pericolo Con Poi questo lancio di Sommer Che alla fine poi In realtà non è neanche così male Si propone sul lungo linea Miki Taran Ancora Barella Grande chiusura Poi di un fresco se ne va Ancora lo noto Con Sanchez Turam Sanchez Che si stanno trovando a meraviglia Può andare Marco Sturam Che l'alza Troppo Brutto errore Brutto brutto errore Lui è stato bravo a seguire Sanchez Che stava arrivando Era coperto Dovevo per forza tirare Decisamente dovevo tirare meglio Bella questa pala di Turam Per Miki che l'alza Sta arrivando Ciala Ottantesimo 5 a 1 Stavolta In realtà è Miki a fare il cross E fa un cross perfetto Altro recupero dell'Inter E qui se Se Turam riusciva a darla Ma è ancora a terra Turam Alza di Turam Non dormire La palla per Sterling Miki non riesce In realtà solo un attimo la perde Poi Sterling Bravissimo A riparare questa palla L'1-2 C'è Pavard In chiusura E Sommer che rilancia Sempre Miki A combattere su questo pallone Il primo ad arrivarci è Neymar Ancora Barella A recuperare questa palla Tacco bellissimo per Miki E' partito Ciala E qui Marchinho Se lo mangia letteralmente Eroraccio In aria E' ancora lentissimo In questo caso Turam Si vede che è stanco ragazzi Tutti a terra Ma la palla è ancora per l'Inter Poi ancora Dunfriese In aria Dall'altro lato C'è Ciala Anticipato Ancora che il recupero di Pavard Può fare un erroraccio E attenzione adesso a Neymar Andato Te freghe Chiusura Poi Mamma mia Neymar resiste anche Alla carica di Dunfriese Può andare solo Neymar 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 Murato E poi Carlos Augusto Rilanciare per Sanchez Anticipato E Devre Ancora in chiusura Vediamo se c'è tempo Per l'ultima azione Con l'Inter che si distende Ligno Sanchez Ci arriviamo Con il Ligno Sanchez Per un attimo immobile Da questo punto di vista E direi che Non c'è più tempo Barella A recuperare il pallone Tripletta di Ciananoglu Che si porta il pallone A casa giustamente 16 tira 2 Ma Partita letteralmente Dominata dai nerazzurri Contra questo Napoli All Star Non c'è mai stata storia Una grande Inter Che Riprende La scalata In Verso la divisione 1 Ragazzi Nuovo aggiornamento Fatemi sapere Se voi siete interessati A qualche nuovo giocatore Ho visto un uomo romare Ma Non ci sono nerazzurri Quindi noi i pacchetti Non li guardiamo neanche Neanche nei player of the week Purtroppo Quindi È tutto per l'episodio di oggi Il primo episodio di oggi Vi do appuntamento a fra tre ore Vi ringrazio per aver guardato Ci vediamo alla prossima Vi ringrazio per aver guardato